Mi aspettavo un sacco questo momento da tanto, c'è la barba, guardate, guardate la barba cazzo, mi è cresciuta Non sembra ancora barba perché non è barba, sembrano dei peli pubblici Siamo arrivati a 50.000 iscritti su YouTube e non siamo ancora arrivati a che cazzo ne so, 50.000 iscritti su Instagram Quindi vi prego che gandate lì cazzo C'è ancora qui dall'ascensore più piccolo di Milano, anzi di tutto il mondo perché io sono sicuro che questa è piccolissima Non riesco ad aprire le mani, l'ascensore in cui non puoi aprire le mani non è un ascensore che sicuramente può contenere 6 persone, è impossibile Quando diventerò uno YouTuber famoso avrò i soldi per andare in palestra Comprate il merch Ogni volta che veniamo qua a Piazza Gariballi dove stiamo in questo momento ci sono sempre persone che ci fanno concorrenza Un inviato dei The Show No, come un freelance, un inviato per fricciare la notizia Posso accarezzare il suo cane? Come si chiama? Posso chiedervi come si chiama? Questo cagnolino che hai qua Che tenero Come si chiama? È vostro o è perso? Come si chiama questo? Prova a chiamarlo, se risponde Eh ma non so come si chiama Come si chiama questo cane? Ragazzi è vostro questo cane? Oh ma ti conosco Non è vostro questo cane È un nostro paio di persone Ok ok, speriamo non mordare il suo E vacciniamoci contro il covid Il cane qua dietro di lei è suo? Non è mio Questo qua, questo qua Scusate, attento Questo qua, questi qua, questi qua Continua a carezzarlo Questo qua, è suo il cane? No, non è mio, però se continua a carezzarlo È sicuro che non è suo? Ma secondo lei quanto vale su sto Kix? Non lo so Aia, mi ha morso Sto cane di merda Dai faccia fin di non aver visto niente Grazie Arrivederla Che bello È suo il cane? Che bello Cucciolo Come stai? È bello? È suo il cane? Sì esatto È suo? È suo il cane? Abbandoniamo i cani qua a Milano Dai Abbandoniamoli Non lo so Abbandoniamo i cani a Milano Guarda, le persone di Milano Abbandonano i cani per terra L'ha calpestato Un attimo, un attimo Si fermi lì, fermi lì La coda del mio cane Un attimo Come stai, cucciolo? Non calci il tuo cane No, 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 no Comun calci il mio cane Questo ragazzo ci sta facendo concorrenza Anche tu stai cercando di diventare famoso su OnlyFans Come si chiama? Silvio No, questo cane L'altro Come si chiama l'altro? L'altro cane Questo qua Amore La prego Mi puoi dire come si chiama? Non lo so Come si chiama questo cane? Lo vogliamo far accopiare con il mio? È qua vicino Guardi Qua Li vogliamo far accopiare? Posso far giocare il mio cane con i vostri cani? E dove è il tuo cane? È qua Questo qua Bellissimo Vi piace? È il periodo di accoppiamento dei cani No, omo Perché poi lui Anche a lui Piacciono i maschi Le femmine Gli piacciono tutte le cose Io non ho mai visto questo ragazzo in tutta la mia vita Ma morde? Oh, sì Mordi? No, ma questo cane Quel cane lì Chi è quel cane? Sarà nella tua immaginazione Io non ho paura di questo Ho paura di quello Puoi usciare pure io intorno per marchare il territorio? Non lo so io Signora, attenta che c'è un cane qua Cosa? Il mio cane può stare attento Gli ha appena prestato la gamba, signora Voglio 100 euro da lei in questo momento 100 fottuti euro Adesso Hai amore, tranquillo Non avere paura Anche lei lo vede il mio cane? O sono l'unico a vederlo? Lo vede pure lei? Sono pazzo? Mi dica che sono pazzo Come si chiama il cane? Io No, l'altro, l'altro Dove? Quello là vicino Il secondo cane Come non c'è? Sono pazzo? Sono pazzo? C'è questo qua Questo qua Posso chiedervi se potete Un attimo solo questo Così per un secondo Allora ragazzi Oggi siamo qua in giro per Milano Per la prima volta Insieme al nostro cane Siamo felici di portarlo in giro a Milano Lui è felice come noi Cazzo Siamo entrambi felici Vabbè Non muoia Grazie mille ragazzi Siete gentilissimi Siete grandi